quali sono i sentimenti che renzo vive nel giorno che doveva essere del suo matrimonio dopo la presentazione del personaggio lorenzo o come tutti chiamano renzo in quattro distinti momenti manzoni fa vivere quattro momenti quattro sentimenti molto forti al nostro personaggio il primo sentimento di grande felicità stupore e sorpresa rabbia e furia calma e dubbio per quale motivo questo lo scopriremo nei prossimi video vi aspetto capiremo i motivi per cui renzo a questi momenti così contrastanti fra loro